G20 all'Eur dalle 19 di questa sera l'attivazione della zona di massima sicurezza di 10 km2 attorno alla nuvola con divieti di sosta e fermata, limitazioni al traffico pubblico e privato. La zona sarà infatti transennata e interdetta al transito veicolare e pedonale. L'accesso sarà consentito ai soli veicoli in servizio di polizia di soccorso nonché alle persone che dimostrino di averne diritto. L'accesso previo controllo sarà infatti riservato a tutti quei cittadini che abitano e lavorano all'interno dell'area. Sarà però necessario avere con sé un'idonea documentazione che possa dimostrare la necessità di dover accedere all'area di massima sicurezza. I confini della zona rossa e i varchi per gli autorizzati sono consultabili su romamobilità.it.